Il corso di laurea in informatica dell'Università del Piemonte Orientale viene erogato sia nella sede di Alessandria che in quella di Vercelli. Esiste la laurea triennale e anche la laurea magistrale, quella sui cinque anni. Noi docenti consigliamo agli studenti di ragionare subito nell'ottica dei cinque anni perché sia le opportunità di lavoro che la qualità del lavoro stesso è di gran lunga migliore rispetto a quella triennale. Gli insegnamenti sono molti e di vario tipo, si passa dall'architettura degli elaboratori a come funziona un sistema operativo. Ampio spazio viene dato ai database, all'intelligenza artificiale, si parla anche di sicurezza, informatica forense. L'elenco sarebbe molto lungo ma quello che ci preme sottolineare è che quasi ogni corso ha un aspetto in laboratorio, ha una parte in laboratorio e questo è fattibile grazie a un laboratorio studenti che è sempre aggiornato e di dimensioni adeguate per garantire un posto a uno dei nostri studenti. Abbiamo anche un piccolo data center per quanto riguarda la ricerca specialmente in ambito high performance computing e big data e la ricerca è parte integrante della carriera di un nostro studente. Infatti i nostri studenti vengono coinvolti in progetti di ricerca a livello nazionale, in hackathon e la qualità della ricerca in generale di informatica è di buon livello, infatti quando vengono pubblicate le classifiche il nostro dipartimento, in particolare l'informatica, è posizionata sempre nei primi posti. Per quanto riguarda la carriera di un nostro studente, nella parte finale abbiamo quello che si chiama lo stage, stage che può essere interno, quindi di nuovo la ricerca è protagonista perché lo studente può affiancare un docente e fare questo ultimo passaggio occupandosi di un problema di ricerca, oppure può mettere un piede in un'azienda attraverso uno stage esterno. E diciamo dal punto di vista poi del lavoro i nostri studenti sono decisamente benvoluti, nel senso che poche settimane dopo la laurea la maggior parte dei nostri studenti ha già un lavoro. Le altre esperienze che ci teniamo a sottolineare sono esperienze di studio all'estero, attraverso programmi come Erasmus Plus e Free Mover i nostri studenti possono fare una parte della loro carriera universitaria presso una delle università convenzionate. Ed è un'esperienza che consigliamo caldamente perché al di là dell'aspetto didattico e di studio è un'esperienza che arricchisce sotto molti punti di vista. L'altra cosa importante è che non serve avere nessun tipo di prerequisito. I corsi del primo anno sono corsi di base che non danno nulla per scontato, quindi se avete nessun tipo di esperienza dal punto di vista della programmazione o di informatica in generale, questo non è assolutamente un problema. In questo breve video ovviamente non ho potuto raccontare tutto quello che è il mondo dell'informatica dell'Università del Piemonte Orientale e quindi vi invito ad andare sul sito per approfondire dove troverete oltre al dettaglio dei corsi insegnati, ci sono anche tutti i riferimenti, quali ad esempio le mail per schiogliere ogni dubbio riguardo appunto il nostro corso di laurea. Non posso fare nient'altro che concludere sperando di vedervi presto nelle nostre aule.